Assessore, mai come questa volta l'edizione di quest'anno del Vinitaly assume una grande importanza dopo due anni di pandemia, dopo due anni di stop, si torna a parlare di vino, di vino abruzzese anche con importanti traguardi da raggiungere? Assolutamente sì, si riparte, l'Abruzzo si presenta al Vinitaly in grandissimo stile, sarà un'edizione questa che dal 10 al 13 di aprile dove andremo a portare i 50 anni del Trebbiano d'Abruzzo con una verticale storica particolarissima, saremo lì a presentare i successi sui mercati che ha avuto il nostro vino, saremo lì a presentare il modello Abruzzo che è la vera svolta epocale del mondo del vino abruzzese e che ha introdotto con nuovi disciplinari tutta una serie di opportunità. Saremo lì con l'Enoteca regionale con oltre 300 di tette dove faremo tutta una serie di testing e dove incontreremo buyer internazionali di vari livello, ci saranno dei corner legati all'enoturismo, dei corner legati alle esperienze, diciamo così, ai modelli esperienziali del vino, insomma, quindi avvicinando i territori a quelle che sono le peculiarità e soprattutto saremo lì a esaltare questo nuovo modello Abruzzo che unisce i territori sotto un'unica forza che è l'Abruzzo. Abbiamo chiuso il 2021 con numeri positivi nonostante il Covid e siamo ripartiti nel 2022 con più 25% nei primi due mesi che ci fanno ben sperare e ci proiettano anche verso quello che negli ultimi mesi abbiamo tutti chiamato ormai modello Abruzzo e che Alvinitali cercheremo già di introdurre anche attraverso una rappresentazione territoriale all'interno del padiglione 12 dove le 50 e oltre aziende che abbiamo nell'area consortile sono divise nei territori che poi fanno parte del modello Abruzzo. Ricorrono 50 anni dalla nascita della denominazione del Trebbiano d'Abruzzo Doc, un grande vino, una grande storia che per quel che riguarda l'Abruzzo è stato fondamentale nel corso di questi anni e che vogliamo ancora di più venga rilanciato perché il nostro Trebbiano è un Trebbiano speciale e lo faremo con una degustazione di una verticale storica con vini che a partire dal 1973 addirittura arriveranno fino ai giorni nostri.